Presentiamo tre cortometraggi realizzati dalle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane, del Cavalieri, in cui il focus è la violenza di genere tra adolescenti. Sono dei filmati molto potenti e questa sera è la presentazione ufficiale, la prima, poi questi filmati verranno anche resi pubblici. Sono il frutto di un progetto triennale che si conclude appunto quest'anno e il progetto caratterizzante delle Scienze Umane, Cinema e Ricerca Sociale, che prevede proprio una rivisitazione e una elaborazione di temi a sfondo psicologico o sociale realizzati come docu-fiction. In questo caso i ragazzi sono stati guidati da un regista esperto, che è il regista Antonio Palese, che li ha appunto guidati nella realizzazione di questi corti, che sono anche un po' il frutto di un lavoro su cui noi crediamo molto a scuola e cioè la riflessione sui temi sulla parità di genere, in questo caso il tema della violenza contro le donne, perché è importantissima, a mio avviso e all'avviso anche dei docenti della scuola, la riflessione proprio sulla parità di genere e le pari opportunità. Quindi il 25 novembre non si chiude il 25 novembre, cioè quindi la giornata contro la violenza sulle donne, ma è una pagina a livello di sensibilizzazione che noi vogliamo tenere aperta. Grazie. Grazie.